San Martino del Carso La prima poesia che noi alunni della classe quinta di Via Pellù intendiamo proporvi è San Martino del Carso, scritta da Giuseppe Ungaretti il 27 agosto del 1916. Il poeta descrive il paesaggio che ritrova tornando nel paese che amava tanto, ormai distrutto dalla guerra. San Martino del Carso è per il poeta l'equivalente delle distruzioni del dolore che sono celati nel suo cuore, causate dalla dolorosa perdita di tanti cari amici. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di buro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca, è il mio cuore il paese più straziato. Promemoria La prossima poesia è il famoso Promemoria di Gianni Rodari, una delle più belle dichiarazioni civili e di pace, del grande scrittore e pedagogista italiano. Ci sono cose da fare e da non fare, ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi, studiare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire. Avere sogni da sognare, avere orecchie da non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio la guerra.